In questo periodo i fichi sono uno dei frutti protagonisti della stagione. A quest'oggi voglio proporvi due tipologie di biscotti facili e veloci, super gustosi. Cosa aspettate? Continuate a seguire questo video per scoprire la semplicissima ricetta. Inizio preparando il ripieno. Lavo bene bene e asciugo 10 fichi freschi, tagliato a tocchetti piuttosto piccoli. Trasferisco in una padella, unisco un cucchiaio di zucchero di canna e la boccia grattugiata del limone a sentimento. Lascio cuocere per circa 10 minuti a fiamma dolce, mescolando di tanto in tanto. Al termine lascio raffreddare. Nel frattempo trito grossolanamente quattro biscotti secchi e grigli di noce. Metto in una ciotola assieme ai biscotti secchi. Ne lascio un pochino per la decorazione finale. Aggiungo anche i fichi, mescolo per bene. Verso nella ciotola, dove ho messo la farina, lo zucchero. Aggiungo l'aroma vaniglia a sentimento, la boccia grattugiata del limone. L'olio di semi e le uova a temperatura ambiente. Infine unisco il pizzico del sale. Impasto tutti gli ingredienti, fino ad ottenere un panetto liscio e omogeneo. Divido subito il panetto in pezzi più piccoli, senza bisogno di riposi in frigo. Stendo con il mattarello, ottengo una sfoglia spessa circa 2 mm. Posiziono in modo distanziato dei mucchietti di falcia. Copro con la sfoglia. Sigilo per bene per far fuori uscire l'aria. Incido con il coppapasta. Ottengo tanti biscotti cuodifichi. Stendo la restante pasta frolla, ottengo dei rettangoli. Al centro metto una striscia di ripieno di fichi. Richiudo la pasta pizzicandola. Formo un cilindro. Spennello la superficie con un goccino di acqua. Ricopro con le noci tritate, quelle messe da parte in precedenza. Con l'aiuto di un coltello affilate alla lama liscia, taglio e ottengo tanti biscotti ripieni. Man mano posiziono i biscotti con fichi e noci sulla placca da forno. Ho coperto la base con la carta forno. Lascio cuocere in forno già calde e statico a 180 gradi per circa 20-25 minuti. La scorsa del tempo lascio raffreddare per bene. Prima di servire, cospalgo di zucchero a velo. I biscotti con fichi e noci sono dei dolcetti morbidi che si sciolgono in bocca. Veloce e buonissimi andranno. Veloce e buonissimi andranno. Grazie. 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 Grazie.